Il campionato quest'anno ce l'ha con le gambe. Zoppo è parola, ma non se la prende. L'ingessato Rava si consola con storie di inseguimenti. Quanto a De Petrini deve mettere il caldo dove non batte il sole. Che Dio ce la mandi buona, si raccomanda Magni. Si ritrovano buoni perti e tieghi, giovani danni, ma vecchi compagni. Chi segnerà per primo lo saprete molto presto. Intanto su passaggio di sentimenti terzo, Boni offre un assaggio. Non tutte le ciambelle, ma ecco il buco. Serpentina di Cergole, traversone a Kincest, centro, destro di Boniperdi, buco. Non siamo d'accordo signore, faccia largo, qui si lavora. Basta rubare il tempo a sentimenti perché tieghi pareggi, ma è un pareggio di breve durata. Prima del riposo Boniperdi è tornato a segnare, ed è lieto anche perché oggi non andrà in infermeria. A riprova terzo gol e infine il sesto è addirittura su rigore. Povero mezzo. Fuori l'arbitro, è il momento del pubblico, di voi spettatrici. Avete visto l'obiettivo della Incom che vi fissava? E ora un cerchietto magico incornicerà il volto di una di voi. Se la prescelta si sarà riconosciuta, non avrà che da presentarsi alla Cassa del Cinema, farsi a sua volta riconoscere e riceverà in dono il trofeo Incom GVM. Questo che vedete? Uno splendido astuccio di pelle guernito di squisiti prodotti. Congratulazioni alla prescelta e auguri alle altre amiche della Incom e del campionato. Grazie. Grazie.